... Da quello che abbiamo saputo c'è l'agibilità, il preside ha detto che c'è l'agibilità, bastava esibirla fuori e non dare la possibilità a chi non vuole entrare per altri motivi di creare un polverone e di impedire a chi invece voleva andare a scuola regolarmente di non poter entrare. Il preside ha detto che ha fatto tutto quello che doveva fare, ci ha chiamato la provincia proprio davanti a me sono stati stati istituti e comunque ha insistito in fare dei decci il giorno stesso e il controllo era avvenuto solo in un'aula. Noi ieri abbiamo fatto questa sorta di protesto perché volevamo ottenere un controllo effettivo in tutte le aule, controllo che è avvenuto, infatti oggi stamattina il preside ci ha mostrato la perizia firmata, ufficializzata e dice che tutte le classi sono state dichiarate agibili. Quindi nel caso successe qualcosa sicuramente la colpa sarebbe del perito che ha messo la firma e non del presido di noi studenti e noi non siamo nessuno, lo facciamo per contrastare l'opinione di un esperto, anche che la provincia, come sappiamo, è l'unico ente che può intervenire nell'edilizia pubblica. Se c'è una perizia di agibilità dovrebbero entrare, se non c'è fanno bene a non entrare. Lei da genitore cosa ha detto a suo figlio? Io ho detto di entrare perché secondo me bisogna studiare la cosa fondamentale, però se ci sono dei pericoli, perché rischiare? A quanto pare la scuola è agibile, però adesso non si sa se entrare o no, alcune persone sono entrate e io personalmente non voglio entrare, perché vedo le condizioni in cui sta la scuola, ad esempio lì c'è un buco, ieri è anche caduto un altro pezzo di soffitto, basta che si tocchi il muro e cade tutto, per me personalmente la scuola è inagibile.